Una squadra rettina di pallacanestro giocherà per la prima volta nelle finali nazionali di eccellenza alla massima categoria giovanile italiana ed è per questo che è stata ricevuta in giunta dal sindaco Alessandro Ghinelli, dall'assessore allo sport Nisini e dagli altri membri che non hanno mancato di rivolgere un sentito in bocca al lupo ai giovani atleti. L'impresa dell'Under 16 Chimet della scuola Baschettarezzo che dal 18 al 24 giugno giocherà Bassano del Grappa per inseguire il sogno dello scudetto in una competizione che riunirà le migliori 16 squadre della categoria vedendo scendere in campo le giovanili delle più importanti società cestistiche della penisola e tutti quei giocatori che in futuro militeranno nelle nazionali tricolori. La formazione della SBA ha ottenuto questo straordinario risultato vincendo gli spareggi interzona di Assisi e raggiungendo un traguardo mai ottenuto fino ad oggi da nessuna formazione giovanile cittadina di pallacanestro. La squadra è stata accompagnata in comune dal presidente Mago Castelli che ha detto di essere orgoglioso di questi ragazzi. Andiamo per vincere! Risultato storico e allo stesso tempo strepitoso perché questi ragazzi sono stati bravissimi nel conseguire un traguardo che all'inizio dell'anno si poteva solamente sognare. Andremo a confrontarci con tutte le migliori realtà della pallacanestro giovanile italiana, la menzana Siena che abbiamo già trovato in campionato ma ritroveremo, la stella azzurra Roma, Bassano che organizza le finali, insomma proprio il massimo possibile del settore giovanile cestistico italiano. Quindi per noi era un motivo di grande soddisfazione. Dal punto di vista storico avevamo fatto delle finali nazionali ma si trattava di una categoria elite, era Coppa Italia elite quindi non era proprio tra le primissime squadre, non dava la Coppa Italia, non lo scudetto. era successo nel 2012 con il gruppo 93-94 che poi è quello che adesso comunque viene utilizzato in prima squadra con John Metti e con quel gruppo di ragazzi lì. Ci auguriamo magari che questa esperienza poi serva ai giocatori per prendere consapevolezza di quelle che sono le loro qualità e poi magari fra qualche anno diventare anche dei punti di riferimento per la nostra prima squadra. Grazie. Grazie.